Buongiorno ragazzi siamo a Ostellato per la prima gara della fase finale del campionato italiano a Fide. Ostellato come tutti saprete è un canale in Emilia Romagna dove il pesce predominante è la brem. Un canale molto largo anche fino a 70 metri oltre con una profondità circa di un metro e mezzo veramente veramente pieno di brem. Brem che è un pesce molto sospettoso con la mangiata molto leggera quindi oggi ho voluto provare il nostro nuovo trecciatolo weeper perché proprio per le pesche dove serve una sensibilità eccezionale a lunghe distanze la treccia è indispensabile. Ho provato il nostro trecciato 8 fili e 4 fili e devo dire che sono prodotti veramente eccezionali. L'otto fili è ovviamente con un diametro più circolare, più tondo e sembra veramente seta. Si può raggiungere delle distanze eccezionali tranquillamente superando gli 80 metri. Il quattro fili non è da meno, mi sono trovato molto bene per la peschetta, infatti oggi abbiamo provato sia a pescare sulla sponda opposta, bremo e carassi un po' più grandi, ma anche a corta distanza 10-15 metri le piccole breme che in questo periodo sono numerosissime e col quattro fili non ho avuto problemi. Ti dà veramente la sensazione della mangiata indiretta. Queste trecce sono molto resistenti anche all'abrasione, sono prodotti nuovi che consentono di avere anche una certa sicurezza per quanto riguarda la possibilità di poter urtare un incaglio sott'acqua. Devo dire che sono rimasto molto soddisfatto e lo consiglio sicuramente per le pesche a lunga distanza e per le pesche dove la toccata del pesce è molto lieve. Grazie a tutti e alla prossima!